La persona che ha scoperto questo oggetto qua a Milano all'ospedale della Cadranda era usato in clinica naturalmente, si è incuriosito e ce l'ha portato qua e adesso permanentemente resta un grado che viene mostrato al pubblico quindi ringrazio lui e ringrazio... Grazie Ecco possiamo avvicinarci e vedere i soggetti anche le dimostrazioni che si faranno e le colleghi mettono le foto sull'escrizione quindi potete vedere l'escrizione e qui sono i diversi strumenti elettrostatici sono i nostri strumenti early Wimshurst generatori sono originali e questo è un nuovo uno, non è vero per le dimostrazioni e le strumenti elettrostatici suve strumenti inoltre 好 era vero per varia con questa macchina elettrostatica Wimshultz. Voglio dire i nostri grazie per questa macchina e anche per la riparazione, per la ristorazione. Non è ancora assolutamente pronto. Non si può operare. Mi chiede a te mostrare questa macchina in operazione. Come and show it in operazione. Now driven by hand, but later also by an electric motor. It was important, because I mentioned, if it was used for an x-ray photo, the time of exposure was very long, even few minutes, and to turn it was very tired. Now you see it in operazione, but in the future, the spark will be stronger and longer. the original disc, the original disc, but the insulation is not good enough. so here are now from Plexi, and it operates well. Nevertheless, we could here exhibit also the original piece. And you see on the screens, for example, now the particle accelerator at the Budapest University, or the medical treatment, just by this machine. So it was very important as the first chapter of the electric engineering, of the practical application of electric. and here is the little machine, and thank you. I have no clue to your hand, and perhaps I can sit here in the seat with a little motor. so in the future, the colleagues can show this experience here in the new cell, because as I mentioned, I have our VR here for planning. the車s, the other people can play the best impression on the other side of the car. because we still have the manufacturing and they still have the ability to do it with the factory and then we can start to have the production and keep it going from there, which means the original . we could leave the cab. The original car was the best. If we wanted to show how it works, so we could have the latest We could start to keep it and leave it conservare i dischi da vedere in un'immagine eccetera, però rifarla funzionale quindi questo è il disco che sta la metà grande? originale, 8 dischi e naturalmente non è completo perché qui ci vogliono ancora qui le cavi che vengono generate eccetera si ritrovano qui ma ci vogliono le due bottiglie di Leida o i due condensatori che li accumulano si fa una scarica più grossa, non solo ma qui c'erano, li rimetteremo quattro lampi inizialmente non le scaricavano nulla, ormai bisognava illuminare invece non serviva per illuminare, ma per scaldare l'umidità da il demico di cui lo scaricavano, quindi se c'era umidità non funzionava più bene quindi non funzionava più niente, allora mettevano quattro lampade qui e non su chiuderemo qui qui